Se non investi ti succede questo. Salve a tutti, oggi vorrei fare un discorso un po' di zoom out per parlare dell'inflazione, del potere d'acquisto e in generale dell'importanza dell'investimento pianificato nel lungo periodo per andare a proteggere appunto il nostro potere d'acquisto. Quindi più che le parole partirei con un grafico che rende l'idea, l'ho pubblicato proprio poco fa su X e andiamo a zoomarlo perché questo grafico mette in relazione il potere d'acquisto negli Stati Uniti, nell'Europa a 27 e nell'area euro che come sapete o dovreste sapere ha 20 paesi in questo momento al suo interno. La sostanza non cambia perché in tutti e tre i casi, stiamo parlando di grandi aree economiche, in 20 anni fatto 100 il potere d'acquisto appunto iniziale nel 2024 con quello stesso euro, con quello stesso dollaro, sostanzialmente oggi si possono comprare meno beni e servizi perché quello stesso euro dollaro sostanzialmente ha perso circa dal 30 al 38%, dal 32 al 38% eccetera eccetera, un po' più negli Stati Uniti ma la sostanza non cambia. Quindi praticamente andiamo per sintesi, più di un terzo del potere d'acquisto di quel dollaro o di quell'euro è stato svilito dal tempo. Il tempo gioca un ruolo costante di svilimento del potere d'acquisto delle valute tradizionali. E si è ben chiaro, stiamo parlando delle aree economiche più importanti al mondo, Europa e Stati Uniti, quelle che meglio di tutti riescono appunto a tenere a bada l'inflazione. Perché se ci spostiamo invece in Turchia per fare uno dei esempi più clamorosi di un'area economica comunque in espansione, ma che sta affrontando il grave problema dell'inflazione dove qui ufficialmente siamo al 65%, 67% a febbraio è tornata a risalire, ma in realtà c'è chi ipotizza anche che il tasso vero sia l'80%, ma al di là di tutto vedete un po' caffè e ristoranti 100%, 94%. Sono paesi in cui quando vai al ristorante sostanzialmente i menù cambiano da un giorno all'altro oppure non hanno i prezzi perché dovrebbero costantemente ristamparli e aggiornarli. Pensate un po' quello che accade, quello che può accadere in altre parti del mondo e noi non lo abbiamo mai in realtà vissuto negli ultimi anni. Eppure se guardiamo questo grafico, anche dalle nostre parti, in un orizzonte temporale un po' più ampio di 20 anni, c'è uno svilimento importante del potere d'acquisto. Allora quella moneta se non viene investita subisce inevitabilmente l'erosione del potere d'acquisto, dell'inflazione. L'inflazione dobbiamo sapere che è una necessità per quanto riguarda l'economia mondiale, per quanto riguarda lo stato di salute di un'economia, ma se è bassa, perché pensate se ci fosse deflazione, cioè se i prezzi anziché crescere diminuissero. E' chiaro che un televisore lo andremo a comprare magari fra un po', perché non avremmo lo stimolo a comprarlo subito, visto che addirittura fra un po' sappiamo che quel televisore per effetto del percorso di deflazione che sta vivendo la nostra economia costerà addirittura meno. Quindi se oggi lo pago 500, ma fra un anno lo pago 400, magari non ho appunto l'incentivo a comprarlo oggi, aspetto. Ma se tutti aspettano, alla fine succede che chi produce quel televisore fallirà, perché ne venderà talmente pochi che non potrà sostenere i costi, eccetera, eccetera. Quindi la deflazione, che è l'opposto dell'inflazione, è il male assoluto dell'economia. Ma anche l'inflazione, invece quella molto forte, molto elevata, lo è dall'altro lato, perché appunto va a innescare una spirale di svilimento del potere d'acquisto senza fine della moneta, cosa che sta in questo momento sperimentando la Turchia, o ancora peggio il Venezuela, l'Argentina, eccetera, eccetera. Un'inflazione invece intorno al 2%, quello che per statuto sostanzialmente le grandi banche centrali degli Stati Uniti e dell'Eurozona hanno stabilito come obiettivo intorno al 2%, è vista come un qualcosa di sano, perché stimola l'economia, stimola i consumatori a non temporeggiare nell'acquisto, perché comunque più aspettano, più comunque pagano, perché il televisore crescerà di prezzo fra un anno, crescerà del 2%, eccetera, eccetera, ma comunque crescerà, ma non va a innescare quelle spirali salariali o quelle tensioni o quell'economia che scappa di mano e quella incredibile erosione del potere d'acquisto. Per quanto comunque sia un obiettivo sano, per certi versi, e che non tutti riescono a mantenere, ma più o meno Stati Uniti e d'Eurozona negli ultimi anni sono riusciti a farlo, tranne chiaramente nella parentesi post-Covid, dove è stato stampato tanto di quel denaro attraverso deficit fiscale, anche politiche monetarie molto aggressive, che non creano subito direttamente inflazione nell'economia reale, ma ne creano tanta anche sui mercati finanziari e poi indirettamente, per un processo più lento anche comunque nell'economia reale. Ma a parte gli ultimi anni, tutto sommato possiamo dire di vivere della parte fortunata del mondo, quella di economie forti, che hanno fatto il compromesso con l'inflazione, 2%, molto meglio che meno 1%, molto meglio che 0%, per un discorso di stimoli all'economia, ma comunque questo 2%, che a volte scappa di mano come post-Covid, a volte no, comunque genera anche nelle aree economiche più forti, circa ogni 20 anni, uno svilimento del potere d'acquisto di un terzo del valore di quella nostra moneta. E quindi dobbiamo tenerne conto di questo, di questi fattori, e sostanzialmente la risposta è avere una capacità, una strategia di investimento di quel capitale che altrimenti, se inutilizzato, verrebbe eroso dall'inflazione. In Turchia verrebbe distrutto, disintegrato, dalle nostre parti invece verrebbe eroso di circa un terzo ogni 20 anni. Questo è un po' il destino del funzionamento del sistema economico. Vedete in Turchia cosa accade a un cittadino della Turchia che investe quel denaro nel mercato azionario della borsa locale, perché qui stiamo parlando di valutazioni in lire turche, non in dollari o in euro convertiti in euro. Vedete, chi in Turchia ha investito i risparmi nel mercato azionario e è riuscito a salvaguardare, a proteggersi dalla inflazione che da quelle parti, ripeto, è fuori controllo, 70%, 80%, ogni giorno il ristorante è costretto a rivedere i menu o a non stampare più i prezzi ma a dirli a voce, perché appunto non avrebbe senso ogni giorno andare a inserire nuovi prezzi nel menu, visto che aumentano appunto giornalmente. In questo caso perché la borsa della Turchia, ma potremmo anche fare lo stesso esempio per il Venezuela, ne ho scritto anche in un recente articolo su Sole 24 Ore, trovate tutti i miei articoli in descrizione, vi lascio il link, perché questa borsa, nonostante questa economia, sembri un po' scappata di mano dal punto di vista del controllo dei prezzi e dell'inflazione, comunque sale, perché le aziende producono utili e gli utili sono nominali, non sono espressi in termini reali e quindi ogni anno se quell'azienda riesce ad aumentare i prezzi adeguandoli all'inflazione a parità di clienti o anche magari perdendo qualche cliente, ma meno rispetto al tasso di crescita dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi dei propri prodotti, riesce comunque ad avere, quando presenta i conti di trimestre in trimestre, utili nominali superiori rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente e dato che le borse moltiplicano il valore degli utili per un multiplo che può essere basso se siamo nei paesi emergenti o altissimo se siamo negli Stati Uniti, intermedio se siamo in Europa, comunque moltiplicano gli utili nominali per 9, per 10, per 13, per 20, ripeto se siamo negli Stati Uniti e nei periodi un po' più euforici. Quindi anche la borsa della Turchia, un paese non certo appunto che sta dimostrando di tenere a bada l'inflazione, è un'economia emergente da questo punto di vista, non sviluppata, permette a chi vi investe di proteggere il denaro dall'inflazione. Ovviamente non significa questo ragionamento, non vuol dire che basta investire nella borsa del proprio paese per essere tranquilli. Ne sanno qualcosa ad esempio i cittadini giapponesi che hanno visto l'indice Nikkei per oltre 30 anni, lontano dai precedenti massimi storici. Solo quest'anno è riuscito a superare i livelli del 1989. Pensate un po', ci sono anche case di borse che affrontano trentenni perduti, decenni perduti. Anche il Dow Jones degli Stati Uniti durante gli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 80, non è andato da nessuna parte. Ha disegnato quelle che mi piace chiamare le gobbe di un cammello e a fine corsa non è andato da nessuna parte e non è riuscito in quel ventennio a proteggere l'investimento dall'erosione dell'inflazione. Ma mediamente è un portafoglio ben costruito, nel tempo ben diversificato, soprattutto a bassi costi, perché l'altro tema dell'investimento riguarda anche il costo, le commissioni, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso gli ETF hanno innovato molto il modo di investire abbattendo i costi, eccetera, eccetera. Comunque un portafoglio ben diversificato riesce, può riuscire a battere questo nemico dell'inflazione che poi indirettamente diventa svalutazione della moneta e quindi perdita del potere d'acquisto. E non mi stancherò di rifarvelo rivedere, anche nelle aree più sviluppate e più sul pezzo nel tenere a bada l'inflazione, come dire, come Stati Uniti ed Eurozona, al mondo. In questo sito che ho trovato recentemente, per esempio, e vi lascio in descrizione, sono pubblicati con dei relativi backtest da fino a 30 anni, alcuni esempi di portafogli pigri che appunto lasciati decantare nel tempo sono andati negli ultimi 30 anni a generare rendimenti importanti. Addirittura 14% hanno un portafoglio tecnologico dello Stato puro, un 12,68% sulle azioni americane che cavalcano il momentum, quindi che hanno sicuramente l'effetto adrenalina, l'effetto momentum degli investitori, anche lo stock quality, un 12%, eccetera, eccetera. Il stock 80 azioni, 20 bond momentum, ce ne sono davvero tantissimi, magari andate a vedere, ci sono tantissime strategie, ma quello che vorrei passarvi non è un consiglio operativo a scegliere uno di questi portafogli in particolare. Il concetto è che è un dovere da parte del cittadino che ha dei capitali cercare di proteggere questi capitali in più rispetto a quelli che gli servono chiaramente per le spese ordinarie, anche per le spese straordinarie, è comunque un fondo da accantonare, ma anche in quel caso quel fondo può essere messo in un conto deposito, uno strumento monetario che comunque offre un tasso di interesse che lo protegge dall'inflazione, ma allo stesso tempo sia svincolabile all'occorrenza. In ogni caso esiste un'infinità di esempi con backtest nel passato che consentono di farci capire da 13% del tecnologico puro al 7% di tantissimi altri che sostanzialmente è possibile investendo bene e a bassi costi e facendo decantare questo investimento nel tempo è possibile proteggere il proprio capitale dall'inflazione. Ovviamente investire richiede una pianificazione, un orizzonte temporale, una pazienza, una mentalità adeguata, non confondere le strategie, molto spesso siamo lì con il nostro cervello che è nemico, che ci fa trasformare una strategia di investing in una strategia di trading perché è la tentazione di, se le cose vanno bene, di prendere profitto, di provare quella gratificazione personale di aver fatto quel profitto, ma in realtà l'investitore è, ripeto, nella metafora che mi piace usare più spesso, è un contadino che sa seminare, sa aspettare e poi sa raccogliere. Invece il trader è uno che va a cavalcare le onde, laddove ci sono grandi onde nei mari della California o insomma nei mari dove si fa surf, e quello è un altro mestiere, quello del trader di chi cavalca le onde che specula sull'aumento del prezzo per n motivi o sulla diminuzione se va short per altri n motivi sul movimento di breve. Sono due campi da gioco completamente diversi, a mio avviso quello del trader è molto più complicato, molto più semplice, tra virgolette, è quello di avere un portafoglio pigo tra le centinaia che ve ne sono a disposizione e tenervi fede. Un portafoglio che risponda anche alla propria tranquillità, perché ogni portafoglio ha uno sharp ratio, un livello di rischio differente, un livello di possibili drawdown. Se un portafoglio ha rendimenti molto più alti, è chiaro che questo portafoglio giustamente ha anche una volatilità attesa, implicita, più elevata. E quindi dobbiamo capire se vogliamo, se siamo disposti a sopportare, per avere quel delta in più nel tempo, anche una volatilità superiore, se riusciamo a dormirci la notte. Ma vado a concludere questo video un po' motivazionale, ma di educazione finanziaria, come al solito. E se vi piace, vi invito ovviamente a seguire, per chi fosse nuovo, iscriversi con la campanellina e a mettere like. Mi raccomando, almeno mille like a video per crescere rapidamente e più velocemente insieme. Ma appunto il concetto basso di questo video è proprio che investire è sostanzialmente un dovere per chi ha dei capitali in più rispetto alle spesse quotidiane perché altrimenti il mercato, altrimenti l'economia, si occupa comunque di noi andando a svilire il valore del nostro denaro e il potere d'acquisto. Questo accade anche nelle economie più forti, come questo grafico in modo schiacciante riprova e accade ovviamente anche in quelle emergenti come in questo caso la Turchia che nonostante tutto, nonostante abbia nominato recentemente Erdogan alla banca centrale dei personaggi che sono stimati dagli investitori internazionali perché finalmente hanno alzato un po' i tassi di interesse proprio per contrastare un po' l'inflazione a differenza di quello che accadeva prima quando addirittura Erdogan licenziava i vari banchieri centrali se osavano tentare di alzare i tassi eccetera eccetera. Nonostante tutto comunque questa economia dicevo viaggia ancora con un'inflazione fuori controllo e quindi provate a fare un viaggio da quelle parti o in Argentina e toccherete con mano davvero quanto l'inflazione possa essere un male. L'abbiamo vissuto in questi ultimi anni in parte dalle nostre parti chiudo con un esempio prima del covid avevo ordinato un take away da un ristorante che mi piaceva molto greco poi per varie vicissitudini non ho più ordinato e sostanzialmente quando sono tornato a fare un ordine la scorsa settimana sono stato sorpreso che più o meno le cose che compravo prima del covid con 30-35 euro tutto compreso nella volta successiva proprio la settimana scorsa hanno quasi sfiorato 50 euro e quindi questa è perdita del potere d'acquisto anche nella nostra economia forte quella dell'eurozona capace di tenere a bada tutto sommato l'inflazione nel tempo ma non basta un investitore deve farlo un cittadino deve imparare ad investire proprio per proteggersi dallo sviluppo costante e programmato del potere d'acquisto della propria valuta alla prossima